Ultimo appuntamento religioso per la festa patronale di Brindisi, con la processione che dalla chiesa cattedrale la giunge il Tosello al centro dei corsi, per recuperare le statue di San Lorenzo da Brindisi e Santi Odoro a Cavallo. La prima per fare ritorno presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli e la seconda presso la chiesa cattedrale, un'occasione ovviamente anche di bilancio per le festività appena concluse, nonostante il tema che continua a serpeggiare tra i fedeli presenti resta ancora la polemica di Monsignor Rintini legata al discorso celebrato sabato sera in piazza e la mancata omelia di domenica nel suo pontificale. Le parole del nostro Vescovo sabato sera sono state importanti, ci hanno richiamato tutti alla partecipazione, alla comunità, al sentirsi di camminare insieme e dobbiamo camminare insieme e dobbiamo sempre dare il meglio di noi, siamo chiamati proprio a fare questo, nel dare la vita si dà il meglio e questo è il messaggio che resta di questa settimana intensissima che abbiamo vissuto insieme. Questo è quello che ci siamo ripetuti in questi giorni, la vita non va vissuta con il minimo sindacale ma va vissuta in pienezza nella totalità, la vita è dono così come hanno fatto Sant'Eodoro e San Lorenzo. Ci sono state tante le occasioni in cui tutti i cittadini in qualche maniera hanno potuto, hanno avuto l'occasione di essere vicini ai Santi Patroni nelle modalità più differenti e quindi continuare ad impegnarsi, continuare ad amare, ad amare fino in fondo così come hanno fatto i nostri Santi Patroni, a donare la nostra vita nell'impegno.